Come confartigianato di La Spezia, in questo momento di grave crisi che accomuna tutte le imprese, naturalmente crisi economica e crisi sanitaria, non dimentichiamo tutti i problemi sanitari che abbiamo, però noi vogliamo aiutare le nostre imprese tramite naturalmente il contributo della Regione Liguria che ringraziamo. Ieri abbiamo ricevuto 35.000 mascherine che ci approntiamo a distribuire alle nostre imprese e anche alle imprese che non sono iscritte con confartigianato che vorranno farne uso e basterà fare richiesta all'associazione, prendere appuntamento perché le stesse vengano poi distribuite naturalmente in base al numero dei dipendenti anche di ogni impresa, perché sono diventate veramente difficili da trovare e quindi bisogna essere anche parsimoniosi nel non sprecare questa opportunità che la Regione ci ha dato.